Cosa sono esattamente le calorie vuote? Parliamo di calorie vuote ogni qualvolta si faccia riferimento a tutti quegli alimenti che presentano un elevato apporto energetico, cioè calorico, ma che al contempo non sono in grado di fornire un adeguato livello di macronutrienti, in alcuni casi ne sono addirittura privi, come ad esempio le vitamine, i sali minerali, le proteine e gli antiossidanti. In apparenza una calorie vuota è identica dal punto di vista energetico ad una calorie diciamo tradizionale, cioè apportano al tuo organismo la stessa energia, ma non è per niente la stessa cosa in termini di salute, perché una calorie vuota viene metabolizzata dal corpo non in funzione delle sue reali esigenze organiche, come accade per i normali nutrienti, ma con l'unico scopo di essere neutralizzata ed eliminata, quindi non serve a nulla. Ecco allora che queste calorie vuote sono una delle principali cause del sovrappeso, perché a differenza di un eccessivo apporto, ad esempio di carboidrati, che poi in qualche modo il tuo corpo sarà in grado di eliminare, diciamo consumare tramite ad esempio l'attività fisica, un eccessivo apporto invece di calorie vuote, ad esempio di patatine fritte, non viene eliminato così altrettanto facilmente dal tuo corpo, al contrario vengono immagazzinate, predisponendo poi il tuo organismo al sovrappeso e allo sviluppo di quelli che sono i disturbi di tipo metabolico, come diabete e ipertensione. Quali sono allora i cibi ricchi di calorie vuote, quindi i cibi che dovrai evitare? Tutti quegli alimenti prodotti con farina raffinata, zucchero e margarina, come ad esempio le patatine, le caramelle, le merendine, gli snack e le bevande, come ad esempio le bibite zuccherate, i succhi di frutta e molti alcolici. Nello stesso pasto puoi introdurre la stessa quantità di calorie, mangiando ad esempio 100 grammi di pasta integrale, oppure sgranocchiando 90 grammi di patatine fritte. Entrambi questi alimenti apportano circa 340 kilocalorie, ma c'è una bella differenza in termini di salute per il tuo organismo. Inoltre questi alimenti a calorie vuote non sono in grado di saziarti, proprio perché non apportano, o quasi, nessun nutriente e quindi si vanno semplicemente ad aggiungere alle calorie che tu normalmente assumi durante la giornata. Quindi anziché introdurre ad esempio 1500 kilocalorie come da dieta, magari ne introduci 1840 e questo non può altro che facilitare un incremento di peso e quindi un sovrappeso. Quindi fai molta attenzione tutti gli alimenti hanno lo stesso effetto sul tuo organismo. Questo non significa che tu non possa concederti ogni tanto uno sgarro, mangiandoti, che ne so, una merendina o bevendoti un bicchiere di vino. Ma gran parte della tua dieta dovrebbe essere costituita da cibi, diciamo, salutari, cioè che apportano un adeguato livello nutrizionale. Perché ricordati che stiamo parlando della tua salute. Ci sentiamo presto e buon allenamento. Ciao!